vincenzo schettini meglio conosciuto come la fisica che ci piace sono un prof influencer che vuol dire che insegno a scuola insegno anche in rete o più di due milioni di persone che studiano con me voglio rendere la fisica semplice accessibile far capire che tutti a tutte le età non solo possono comprenderla ma studiarla perché è importante nel processo di apprendimento la fase di semplificazione e semplificando un concetto chi lo sta studiando arriva immediatamente e se ne innamora mi chiamo cristina gallo sono un'insegnante specializzata sul sostegno nella secondaria di primo grado mi occupo di informazioni docenti e su instagram come la prof spettinata parlo del mondo scuola innovare la didattica non è qualcosa di semplice o veloce i social fungono da catalizzatore offrendosi come un ponte fra docenti geograficamente lontani la mia mission è ispirare i colleghi a innovare la didattica con un approccio bottom up sensibilizzando ai temi dell'inclusione e della crescita personale ciao a tutti sono fende e anche quest'anno sarò a didacta perché mi dà la possibilità di partecipare a tantissimi workshop e seminari per imparare nuove strategie e strumenti da portare nella mia didattica quotidiana per fare quella rivoluzione che tanto sogniamo e vi aspetto in fiera il 9 e il 10 marzo ciao io sono laura o forse mi conosci meglio come maestra laura b ho un'idea per te l'otto il 9 il 10 marzo viene a firenze c'è didacta la fiera dove troverai sbircerai raccoglierai confronterai e scoverai tantissime idee potrai partecipare a workshop laboratori eventi seminari potrei sfogliare libri ed immergerti in ambienti digitali se sei con me sempre alla ricerca di idee e pensi che una scuola innovativa collaborativa inclusiva divertente e laboratoriale sia un'idea migliore di scuola allora non potrai mancare se non ci avevi ancora pensato partecipa e mettiti in gioco vieni a fiera didacta una nuova idea di scuola ti aspetta ciao sono maestra manu e il 9 il 10 marzo sarò a fiera didacta perché venire a fiera didacta perché incontrerete un sacco di aziende associazioni startup che lavorano con e per le scuole a redi innovativi aule immersive giochi didattici che potrete usare e toccare con mano e tantissimi professionisti pronti a risolvere ogni vostro dubbio e a far brillare la vostra curiosità vi aspetto alla fiera a presto ciao 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 ciao